ecco qua 16 anni e roba bellissime fino a pochi giorni prima però c'è un silenzio assordante solo per farvi vedere come come mi sono potuto sentire questa era piena fino a qualche giorno fa aveva la barba addirittura fuori da quante api c'erano anche queste avevano la barba via dicendo ma cosa succede prima di aprire fame malattie cominciamo da qua al solito le torpa si aprono da questa parte no la fame sarebbero tutte dentro qua c'è qualcosa che non va a migliaia non è la fame non è qualche altro non è stato un osso è stata calabroni non sono state le cammule è stato l'uomo qua le analisi diranno un pesticida un pesticida migliaia